Bene, guarda Dimmi Buongiorno, signore No, non si spaventi Non si spaventi, non si spaventi Venga qui, venga qui Scusi, scusi, non scapi È rosso, la posserebbero investire Eh, peccato Tu gliel'hai detto di non passare col rosso L'ho passato lo stesso Te lo insegnano quando sei piccolo Perché hai passato col rosso, secondo te Io non le capisco le persone di questo gioco E ragazzi, come va? Io sono Firinichi E io sono Stefa Che seggi chiama GTA 5 E oggi siamo qui con un nuovissimo episodio Del si può fare Ovviamente con tantissime nuove cose da provare Esattamente Qualcosina per il Phantom Wedge ce l'abbiamo Dato che appunto avevamo fatto un episodio con le cose nostre Quindi ne abbiamo un po' che ci avete proposto voi da provare Dopodiché abbiamo anche un altro po' di cose davvero simpatiche La prima che vogliamo provare è Si può ammazzare un civile a furia di spingerlo Quindi niente pugni Niente rissa, nulla in nulla Io, 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 io Scusi Scusi Ok, ogni volta che si rialza lo ributi giù Ok, scusi Inseguilo Dai Ma perché ci deve rovinare i nostri piani? Venga qui Ma lei è velocissimo Ma quanto corre? Ma fa atletica? Scusi, rallenti un po' Eh, buttiamo giù questo La prendiamo con questo Venga Oh no, spattuta la testa Inseguilo, inseguilo Ma non è possibile Ma qua sono tutti interatleti Siamo andati nel quartiere dei corridori Cioè, ma com'è possibile? Non lo so, guardalo, guardalo È più braggio di noi Però non andare in strada Guarda, è appena morto una nel pre-intro Perché appunto è andato per strada È pericoloso Stiamo in marciapiede Noi non siamo pericolosi Vogliamo soltanto vedere se muore Olè Oh, grazie, grazie Adesso è pronta a ributtarlo giù Che sennò che sto qua e riscapa Ecco qua Perfetto No, però non lo calpestare Che sennò non vale Opla Ok Lo stiamo bullettitendo malissimo No, 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 vuole rissare Vuole rissare Continua a spingerlo Niente pugni per noi No, ti devo buttare giù Ecco, bravo, bravo Fai la bravo Come bravo Capito Sono troppo forte Ce l'ho d'acciaio Scusa C'è questo qua che ti vuole dare i pugni E tu lo butti giù solo correndo Bellissimo È un talento naturale Capito, è un talento Aia Invece a me da pugni Mi sta Ci arrendiamo? No, mi sta che non funziona Un po' a zoppo però Guardalo come corre Però magari sono stanca A furia di cercare di dare pugni al vento Fede, che è successo? Niente Sei stata tu? No Sicura? Guardami negli occhi E dimmi che non sei stata tu? Non sono stata io Sei sicura? Guardami Non mi sembra La faccia di una persona non colpevole Guardami Io nel dubbio ti do un cazzotto Poi vedi tu Non ci provare pure tu Che sono poi alla fine di quello Hai capito? Fede Hai capito? Stai calma Scusami No, non ci devi provare Non ci devi provare Mi stai ammazzando Smettila E allora fermati tu Smettila Smetti di dare quei dannati calci Disgraziata Il mio personaggio usa solo calci Evidentemente Sì Quando io l'ho creato Ok Il mio essere, capito? Si è trasferito da me Al mio personaggio di GTA E quindi da solito È molto probabile Sì, è il mio sogno Prenderà calci Allora Quindi mi capisce Tu no Ma il mio personaggio sì Ma è finito No Abbiamo dell'acqua vicino? Perché un si può fare Che ci hanno proposto E si può ammazzare Una persona che sta sott'acqua Quindi uno sta fuori dall'acqua E lo spara Mentre uno nuota No, no, no Sto guardando la mappa Siamo lontani da qualsiasi ponte d'acqua Vieni Si può fare Si possono far esplodere I bagni chimici Il problema è che Dovrebbero essere qui a Luna Park Ma non li vedo Quindi Io voglio un attimino Provare invece una cosa Si può far esplodere La macchinetta Degli O-Dog Prova Perché Aspetta, anzi C'è direttamente la bombola qua Allontanati un attimo da questa roba Oh mio Dio L'hai distrutta Lo sapevo Hanno la bombola Perché altrimenti Come fanno a cucinare? Io avrei detto di no però E beh Ma hanno la bomboletta Quindi ovvio Eh lo so Ma avrei detto di no E invece Vediamo questo Lasciamo una bomba qua Aspetta Sta prendendo fuoco Tutte le una Fare 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 Oh mio Dio Stai prendendo fuoco Vattene 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 Ok no Sono tranquilla adesso Sono tranquilla Sono sparite le fiamme Stanno dando fuoco a tutto Sta prendendo fuoco tutto Fare Ah non è una bella cosa Fare è un problema Buttati in acqua Vediamo se riesco a spararti Visto che ci siamo Vai Oh no c'è il fuoco Allora Allora Mi vedi No Perché io tecnicamente Dovrei stare abbastanza Sott'acqua giusto Sì esatto Allora sono Allora dimmi se ti colpisco Vai Ok Allora Prima che muoia Soffocata Vedi i proiettili No Aspetta aspetta Torna a galla Fare sei morta Vai fare Vai sott'acqua Qua ti prendo per forza Ok Sono qui davanti Ok Finalmente Te l'ho detto che li vedevo Infatti i proiettili Immaginavo si potesse fare Ci stavamo per arrendere Che poi Io rivisti Sì però siccome questa volta eri vicino vicino Mi sono girata proprio per prenderli in pieno Ho detto Se non mi prende così stavolta Allora non funziona Invece sì Perfetto Anche questo è andato Mi dispiace per i bagni chimici Ma proprio non li vedo da nessuna parte Allora A questo punto Io direi che possiamo iniziare ad evocare Il carro armato E il phantom wedge Perché Abbiamo un po' di cose da provare Con questi due veicoli combinati Quindi Vediamo un po' Consolini Ho una sfida da proporvi Allora C'è uno stante da fare per Steph Se riesco A prendere quella rampa lì in alto E puoi farci sbattere la testa Su un cartello Che ci lì davanti Dovete mettere 3.000 likes Se non ce la faccio 3.000 di Non è vero Non è vero Non ascoltatelo Che è un folle Vado È un folle No Quando si tratta di stante Non sono folle Sono semplicemente Steph Cos'era? Cioè ti prego Cos'era? L'ho preso in piedi Comunque è bellissima la moto Come l'hai fatta Grazie Sì È la mia moto questa Sappiatelo Sì Non è vero È di Steph L'ho fatta a blu e gialla Come la moto di Valentino Rossi Ovviamente Avevo per dire solo Vale Ma ho poi detto Non lo capisce nessuno E quindi è specificato Mi sembrava giusto Specificare Ok Possiamo andare a prendere Il carro armato adesso Sono soddisfatto Di quel palo Guarda che bomba Ti faccio adesso Tu non sai dove vado Fino all'ultimo Grazie Grazie Sì mi è piaciuto molto Mi è piaciuto tantissimo Io non sono caduto cara Ne abbiamo 3 da provare Quindi se il phantom Mi può sbalzare Se io posso far esplodere Il phantom schiacciandole Se poi se sparo La punta perfetta Cosa succede? Quindi partiamo dal Se tu mi puoi sbalzare Vieni Ti vado dritta io Sì Vado Sì 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 Di fatto ti ho messo a testa in giù Quindi sì Non l'avrei mai detto Sì Sinceramente pensavo Si inchiodasse lì e basta Incredibile Non l'avrei mai detto Incredibile Aspetta eh Un attimino Dai che ce la fai Sono un po' pesante Allora qui ci sono Scusa un attimo Sì dimmi C'è un po' di No ma non c'era bisogno Fere Allora vediamo se ti posso Schiacciare e far esplodere Anche se a sto punto non credo Quindi stai ferma Cos'è sta cosa? Allora Ti ho schiacciato Ma non esplodi No non mi hai schiacciato Sì ti sono Sei rimasto incastrato nella rampa Ma non mi hai schiacciato Sì ti stavo schiacciando Schiacciare è così Non è così Eh più o meno Dai Adesso se quella macchina Si togliesse Un po' dalle scatole Spottamela Io te l'ho detto Grazie Così si fa Adesso aspetta che Aspetta non riesco a frenare Sparo sulla punta Esplode 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 E voglio pure io oltretutto È un po' una schifezza eh Aspetta un attimo Dimmi Aspetta un attimo Sono riuscito a fare una cosa Che non riuscivo mai a fare Fere Sali su quel camion in fretta Sono dentro il camion Come hai fatto? L'ho sfondato Con il carro armato No 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 Siamo riusciti ad aprire un camion Ci abbiamo messo sempre una vita Allora praticamente No ma tu non dovevi salire qua Cosa devo fare? Vabbè ho chiamato Lester La polizia non dovrei più averla Ok Devi guidare il camion Tu cosa ci fai lì dietro da solo? E vengo sballonzolato La polizia No davvero? Sì Donazione Allora praticamente Vi spiego Ci sono tantissime cose da fare Con un camion aperto Li abbiamo sempre volute fare Ma non riuscivamo mai ad aprirli Perché nei video fanno vedere Che danno dei colpi In certi punti Di questi camion qua E si aprono gli sportelli Noi ci provavamo E non funzionava mai Magari è solo una cosa Che funziona tipo O nel single player O magari nelle console Esatto Perché ho notato Che ci sono certe cose per console Che per chi non funziona Però abbiamo tratto il modo Basta usare il carro armato In punti con il cannone E lo apri Però si può fare Con questi No non avete idea Di tutte le cose geniali Che si possono fare Facciamolo 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 Sappiatelo Sarà davvero davvero epico Sono felicissimo E ci siamo dimenticati Qualche si può fare Col carro armato Non lo so Se tu che è la lista Se tu l'ha detto No no mi so di no Mi so di no Ok Ad esempio Un si può fare bellissimo E stai ferma lì Se io mi becco Le stelle di pulizia Ferre tu hai stelle di pulizia No Ok perfetto Dimmi se adesso te le da Un attimo Ok Ti ha dato stelle di pulizia No Ok continua ad andare in giro Adesso io perderò Le stelle di pulizia Perché la pulizia Non riesce a trovarmi Qui dentro Ma ti sembra Che poi Se tu fossi salito Da passeggero Io le avrei riprese Ovviamente E invece salendo qua No Posso rimanere qua Ammazzare i puliziotti E tu non hai ancora stelle No Zero di zero Zero di zero Assurdo Bellissimo Cioè quindi arrivi Anche a cinque stelline Rimanendo qui dentro Sì se tu non sbatti Su una macchina della pulizia A un certo punto Ah infatti le sto schivando Eh vedi è quello difficile Dati io non sto facendo nulla Non ho neanche una stellina Lasciatemi in faccia Andatevene via Allora io inizio a lanciare granate No stra bella No Ecco qua Ecco qua Ma le sono presa a una Hai rovinato tutto Mi è venuta addosso È lentissimo Hai rovinato tutto È difficilissimo Poteva essere una cosa divertente da fare Invece l'hai rovinata come sempre Ti ammazzo Dove stai Nando? Ad ammazzarti Come? Buttandoti da qualche dirupo Ok Allora Facciamo un altro Si può fare No vado in un dirupo Cosa hai fatto? Ho lanciato una granata E mi sono lanciato di sotto È una persona terribile Mi volevi uccidere tu Fere Quindi ho soltanto anticipato i tempi Non ti consiglio di spararmi Perché ti becchi tre stelle di polizia Eh no lo so Lo so Infatti sto facendo Mi sono facendo gli affari Guarda la guardia qua Che bellino È qua tranquillo Lui felice Io sono un ricercato della polizia E forse se ne sta accorgendo Buongiorno No 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 Non sono io Mi ha detto una sberla E quindi diventa una nuova guardia Salve Salve Posso entrare signorina? Certo Grazie Non so il tasto però Lo sfondi Non c'è problema Ok grazie mille Fere Dimmi Lo sapevi? Ma perché dici sempre Dimmi con quel tono là? Perché ogni volta devi dire stupidate Guarda Eh ok Avevi mai visto questo palazzo Dove ci si può salire così? Non credo Non lo so Ma andiamo a vedere cosa c'è Perché? Sono curioso Tu non sei curiosa? Non troppo Guarda che bella vista da qua Fede Vieni Vieni Eh arriva Aspetta un attimo È veloce dai E quindi che vuoi fare? No Non ci sono uscito Si ha funzionato E non si può fare Quindi non ti arrabbiare com'è Si può buttare i ferinichi di sotto Appena sale? Si Però a me è laggato Quindi non ho capito come si è caduta No mi hai spinto e sono caduta Nel mio ti ho dato un pugno Non sei caduta e poi sei caduta No perché mi hai dato un altro spinto Nel frattempo e sono caduta Capito? Allora Me ne è venuta una all'improvviso Così un lampo di genio Si può salire sulla metropolitana con la moto? Secondo me non possiamo neanche entrarci Secondo me sì Perché adesso Tu dici Ok non ci puoi Allora c'è una guardia Se inizi a spararci pensaci tu Ok Però è passata È passata Aspetta è passata Adesso scavalca Il poliziotto per ora è tranquillo Ne frega nulla Ok E il primo ostacolo l'abbiamo superato Dai che ce la facciamo Vai vai Dai che ce la facciamo Che cose inutili che facciamo Ok No guarda che interessante è questo Scusi Non ci ha spiegato nessuno Che ne ho Cannella Metropolitana ti possono investire Ok Meno male che hai detto bene Allora Mi serve un timino chiamare l'Ester Perché mi ha dato una stellina Sai come si sono arrabbiati Quando ha investito Eppure a me Chiama Chiama veloce Sì sì faccia il volo Faccia il volo Quando arrivi Scusi Scusi lei Sa quando arriva la metropolitana Allora Non c'è bisogno che scappi C'è uno che si è lanciato nei binari Ma l'hai visto? Da quella parte Si è spaventato e si è buttato sotto Qui in questo binario Ma scusi Stia attenta Eccola 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 Potrebbe essere il momento più epico della giornata Sempre alla fine capitano queste cose comunque Eh lo so però L'importante è che capitino Allora vai Ok Fermati Apriti Ok Secondo me fai Secondo me fai Quella è la cosa bella No No dai No No Perché Prendiamola senza la moto Vieni ormai Perché E ci si può picchiare Mentre siamo Sì Sì Almeno ci si può Pettare Almeno possiamo fare la risa Ma no ma spero Volevo restare qua con te Mi ha ucciso Guarda che fine brutta Mi ha fatto fare Peccato Eravamo vicinissimi Io gli ho detto sì A sto punto Per forza Si è aperta C'è lo spazio per entrare Ho fatto dai fa E invece I criteri del gioco sono riusciti a pensare anche a chi avrebbe potuto Con la moto cercare di entrare nella metropolitana Ho pensato a Steph e Ferenichi in questo momento Perché davvero Credo di aver pagato Il gioco Secondo te sono aperti o chiude? Mi sembrano No allora stai andando Perché io vedo che tu stai Stai camminando Ah rimane aperta È normale Ok ok Pensavo fosse un bug Guarda c'è ancora una signora scappando qua Ci fermiamo così per questo video Speriamo che vi sia piaciuto Un po' trolloso Ma come sempre Noi siamo sempre trollosi Se il video vi è piaciuto Lasciate tanti like Nei commenti consigliate a proporci cose Possibilmente anche qualcosina Con le metropolitane Che in effetti le abbiamo sempre ignorate E secondo me sono degne di attenzione Magari ci sono un po' di cose da sperimentare Eh sì 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 Secondo me un po' di cose interessanti ci sono Quindi proponeteci nei commenti E ci fermiamo così Guarda che se dice così Se già lasciateci un like E questa è la prima volta che ho detto il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 ciao